live simulator 2.0 c'è stato appena un aggiornamento questo è il problema non ho capito mai perché e continuo a chiedermelo debba soffrire di due cose della vista in prima persona perché non può sedere il mio pazzo o la carica chissà che succede e 2 perché devo fare tutta una serie di lavori inutili all'inizio per apprendere le meccaniche di gioco le posso apprendere anche facendo qualcosa che poi mi è utile dopo notte giorno non è che poi ci vogliono 10 anni per capire se il giochino è bello o no speak with macchinista e parliamo con questo cazzo di macchinista ho fatto tutta una serie di lavori inutili questo è scuro macchinista apriamo F macchinista non mi vuoi parlare? è girato di spalle devo parlare a wrench devo da 25 non so già wrench poi chi era quello che ho visto passato questo 1 una signora che va così in giro a cazzo sono in città quindi to 25 e andiamo a wrench quindi avete visto fino adesso i caricamenti giocone e poi era figo ho visto gli screen mi sono fatto fotte dalla pubblicità ci sta vi fai parlare col macchinista 50 volte questo ha salvato prima dei lavori inutili alla fattoria o del fatto che devo ammazzare la gente qua alla fattoria devi prendermela no ha salvato prima vabbè avrete un'idea del gameplay devo andare alla mia fattoria che in realtà l'hanno occupato i banditi sparare i banditi e poi fare tutta una serie di lavori inutili tipo aggiustare cose tutta sfasciata colla la fattoria davvero il gioco è inguardabile ve lo posso dirgli da subito anche se andate a casaccio vedete potete demolire ricostruire poi però non riuscite a saltare la mia pistola la tolgo oppure non l'ho già fatta perché devo continuare a parlare col macchinista a casaccio io vi faccio vedere il giochino perché c'è poco altro da guardare è un prologo cioè l'idea è buona siete dovete ricostruire un ranch nel far west che è sta merda sostanzialmente poi la fattoria è da quella parte laggiù dove ci sta il mulino una specie di mulino di pala eolica ora mi dice riparla col macchinista ho appena dato 25 dollari vi faccio vedere un po' in giro c'è della cacca ma niente animali misteri della vita scaccate ovunque ma animali zero fa tutto sgredito sembrano pietre cacate non si capisce riparliamo col macchinista beh questo qui ci sono gli attrezzi se volete lanterna che dovrei già che news vabbè raga basta così il gioco è brutto molto brutto grazie a tutti Grazie a tutti